bon jessica incontro stefano iotti business development director aberdeen standard investments performance positiva nel primo semestre per le azioni cinesi anche se molto contenuta rispetto ad altre piazze internazionali continuati a essere ottimisti su questo mercato no assolutamente non è un semestre flat leggermente positivo non ci fanno rivalutare la storia sul mercato azionario cinese e la nostra via assolutamente positiva su quel mercato da una parte la continua inclusione delle escher dentro gli indici azionari internazionali pensiamo l'emc emerging market o l'emc world tutto il tema della trasformazione secolare della classe media e dei suoi consumi che vero driver di crescita di questa nuova cina non più fabbrica del mondo come sappiamo ma la una nuova cina che punta sempre di più sui consumi interni e da ultimo quella che noi abbiamo ribattezzato l'arabia saudita delle rinnovabili quindi il trend green il trend che riguarda tutta la questione è legata appunto al alla transizione energetica e quindi vantaggi competitivi che la cina ha in questo in questo in questo settore con questi tre fattori ci fanno essere assolutamente positivi ripeto non è un semestre leggermente un po fiacco dal punto di vista di performance rispetto magari ad altri mercati che ci fa ricredere no della valutazione su il mercato domestico cinese e da ultimo e chiudo seguiremo anche in maniera opportunistica adesso un tema di valutazioni pressioni che vediamo oggi sul mercato cinese sono molto 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 più bassi rispetto ad altri mercati oggi siamo intorno a 15.5 come valutazione quindi sicuramente molto più in linea rispetto magari ad altri mercati dove siamo oltre 20 ecco quindi anche questo sono sicuramente in ottica di secondo semestre ci fa guardare con più favore magari a questo mercato rispetto ad altri anche solo per un tema di tema di valutazione la people bank of china ha tagliato il tasso di riserva obbligatoria delle banche cambia la politica monetaria e quali sono le ripercussioni sul mercato obbligazionario domestico allora il cambiamento che c'è stato il taglio della riserva obbligatoria permesso le banche di accantonare di meno e di pressare di più è stata una mossa di politica monetaria per dare no più fiato alla parte del sotto la parte del credito questo perché perché di fatto c'è stata una sto più la crescita è stata sicuramente più lenta nell'ultimo nel nel secondo trimestre in linea con le aspettative si aspettava una crescita dell'8 per cento e cresciuta le 7.9 però sicuramente non ha la cina si è abituato ad avere crescite ben diverse questo ha portato di fatto alla bank of china di dare maggiore credito soprattutto alle piccole e medie imprese che sono quelle in più in difficoltà questo noi che cosa vediamo da qui ai prossimi sei mesi sulla parte obbligazionaria secondo noi sarà un ulteriore taglio della riserva obbligatoria da parte delle 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 banche e secondo nel breve periodo un mini rally potremmo dire sulla parte obbligazionaria già il decennale è sceso di circa 10 basis point nelle ultime due settimane era 3 0 5 oggi 2 e 95 circa una cosa del genere ci aspettiamo un altro 10 20 basis point di di calo del 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 tasso del decennale quindi una spinta sulla parte sulla parte dei prezzi quindi cerchiamo come come team di investimento sulla parte obbligazionaria di vedere di prendere no questa questa questo questo leggero questo leggero rally sulla parte sulla parte obbligazionaria dei dei tassi quindi dei prezzi è quello che possiamo dire in realtà sulla parte obbligazionaria che il renminbi bon parte del governativo cinese la parte governativa onshore cinese è per noi un grande diversificatore a livello appunto di sulla parte obbligazionaria l'abbiamo visto benissimo nella prima parte dell'anno con il treasury che balzò a un punto 7 cosa è successo sui tassi cinesi ci sono rimasti fermi se oggi cerco un decorrelatore sulla parte obbligazionaria sicuramente questo lo troviamo sulla parte sulla parte cinese la banca centrale cinese e rispetto alle sue omologhe in europa in america ha molte più munizioni rispetto appunto a loro quindi sicuramente da questo punto di vista i tassi che abbiamo in cina le possibilità di manovra che ha la banca cinese rispetto alla bce o la fed sono sicuramente molto più ampia quindi anche sulla parte obbligazionaria se oggi io cerco un decorrelatore sicuramente questo decorrelatore è il decennale è l'obbligazionario domestico cinese appunto perché è un obbligazionario che ha delle dinamiche molto più a sé e la banca centrale è completamente divergente rispetto appunto alle altre belt and road initiative quali sono le opportunità di investimento allora quando guardiamo a belt and road diamo qualche numero parliamo di circa un universo obbligazionario investibile da circa 4 mila 4 trilioni di dollari senza mental currency e un universo dove abbiamo abbastanza diversificato abbiamo parliamo di circa quasi 70 paesi è una via di mezzo potremmo dire tra paesi emergenti e paesi di frontiera quindi può essere un buon compromesso come forma di investimento per unire entrambe le cose in un'unica in unica soluzione appunto di investimento tra l'altro l'anno scorso uno potrebbe pensare contare ma invece c'è stata un'accelerazione da parte della cina nell'investimento sulla parte sulla parte sulla parte del belt and road secondo noi come come idea di investimento come opportunità rimane anche perché poi se andiamo a vedere tutto la questione tutto il tema che riguarda la digital sicuro da quindi non solo infrastrutture ma anche tutta la parte molto più digitale e anche gli ultimi progetti in ottica anche gli sg da questo punto di vista il progetto in generale belt and road per noi rimane assolutamente interessante attrattivo anche perché un modo per investire sulla parte se vogliamo più corporate in arcarency quindi evitiamo tutta la componente local care quindi rimaniamo su un rischio prettamente no di di arcarency non di local ed è un modo per prendere la parte anche corporate cinese che internamenti reminbi ci fidiamo molto poco momenti tassi defo sono molto alti preferiamo andare a prendere la parte arcarency il corporate arcarency offshore quindi qualcosa appunto che è messo fuori dai dei canali tradizionali cinesi sulla parte corporate in senso stretto quindi quello secondo me diventa un'opportunità per il tema di diversificazione in tema di tassi di rendimento sicuramente ripeto molto più interessante e il progetto rimane intatto non a caso ripeto l'anno l'anno scorso proprio è stata un'accelerazione da parte della cina proprio nella nella un'accelerazione degli investimenti all'interno appunto di questa bel terror d'initiative grazie